In campo è rimasta una piccola percentuale di uova che deve ancora schiudere. Le larve nate hanno superato il 90%. Anarsia. Da metà maggio il modello ha iniziato a segnalare l'inizio del volo. Adesso ha raggiunto valori compresi tra l'80 e il 90%. È iniziata la deposizione delle uova che ha valori compresi tra il 10 e il 18%. Ci dia molesta. Le larve nate hanno superato l'85%. È in corso l'incrisalidamento della nuova generazione. E in questa settimana abbiamo l'inizio del nuovo volo già indicato in numerose aree monitorate dai modelli previsionali. Tignoletta della vite. Il volo è in calo. La percentuale delle uova deposte è superato il 90%. Mentre la percentuale delle larve nate supera adesso il 60%. E sentiamo ora l'indicazione per la difesa da questi insetti. Noi ci sentiamo dopo per parlare di peronospore. Per quanto riguarda le drupace parliamo velocemente di cidia molesta per dire che è previsto l'inizio del volo questa settimana per cui al momento comunque non è previsto alcun intervento. Invece per quanto riguarda Anarsia il volo è iniziato circa una settimana fa e dove è stata superata la soglia delle 7 catture per trappole per settimana è giustificato intervenire. In questa fase tuttavia essendo una fase di deposizione delle uova si può intervenire solamente con prodotti a base di triflu muron quindi l'alcistin l'unico prodotto a base di questo principio attivo. Ecco va detto che questo prodotto è registrato per il pesco ma non lo è per l'albicocco dove comunque l'anarsia rappresenta il principale insetto, l'insetto più pericoloso. Quindi sul albicocco dovremo attendere la nascita delle larve che è prevista comunque per metà fine prossima settimana a grandi linee e comunque a questo punto non diciamo nulla e nella prossima trasmissione vi daremo le indicazioni per quanto riguarda l'impiego dei prodotti larvicidi. Ecco con questo è tutto per oggi, arrivederci ad un prossimo appuntamento.